Noi assorbiamo tutto, cioè la nuova società che è composta anche dalla compagine sociale che verrà allargata con i soci Olympus e i soci Life, assorbirà chiaramente tutto l'organico dei dipendenti e dei collaboratori, quindi sono messi in sicurezza, ognuno continuerà a fare il proprio lavoro all'interno della nuova struttura. Olympus Avant è una realtà che non vi devo raccontare, sicuramente conoscete 22 anni di storia, di professionismo, di serietà e di qualità in città. Lasciano una struttura a cui loro sono molto legati, con ringraziamento alla famiglia Bulgheroni che li ha chiaramente ospitati per tutti questi anni, ma non c'era la possibilità di creare e sviluppare quello che abbiamo in mente. Da questa parte, grazie alla proprietà immobiliare, il gruppo Caravati che ci ha sposati in questo progetto perché ci permette di fare degli ampliamenti importanti, in primis l'area ex ristorante e subito dopo l'area cinema, per fare degli nuovi spazi da dedicare a nuove attività sempre legate al mondo del wellness e del fitness, quindi un'area bootcamp, un'area pancafit e non solo. I lavori inizieranno a gennaio, quindi ci vorrà il suo tempo per realizzarli, chiaramente lavoreremo già da subito all'interno per migliorare gli spazi esistenti, per renderli più efficienti e più efficaci, ma da subito creeremo a fianco un'area anche di ginnastica riabilitativa, grazie al Biosircuit, di cui sono già in possesso in Olympus Avant, capace di dare un percorso pseudo-riabilitativo vero, quindi non solo ginnastica ma riabilitazione.